Sono Marco Marinacci, sono qui perché sono stato casualmente la prima persona in Italia che ha parlato di personal computer su una rivista purtroppo ormai oltre 40 anni fa, 41 credo era il 76 e sono andato un po' a raccontare come era il mondo a quell'epoca, io faccio sempre una considerazione oggi e 40 anni fa, adesso pensiamo a com'era il mondo 40 anni prima di 40 anni fa, è meglio che non ci pensiamo perché andiamo a finire negli anni in cui non c'era nulla e quello che c'era era pessimo, in questi 40 anni dal punto di vista che ci interessa l'informatica siamo cambiati in una maniera veramente incredibile, in realtà siamo passati da zero a lasciatemi dire troppo perché ho un atteggiamento forse un po' non polemico ma critico nei confronti di come ci siamo evoluti e salto subito alla fine, ho il telefono in tasca che ho spento perché non mi disturbi, in realtà io con questo telefono teoricamente visto che è in corso il Gran Premio di Spagna potrei collegarmi e vederlo, peraltro l'ho fatto poco fa e funziona ma non sono sicuro che funzioni, cioè non posso essere sicuro che questo funzioni ora 40 anni fa eravamo a un punto in cui le persone non sapevano che avevano a che fare con i computer io ricordo nei primi tempi delle occasioni in cui ho spiegato a voce o per iscritto anche guardate le lettere che ricevete dalla banca o dall'azienda del gas, guardate come sono scritte e notate che quegli strani caratteri sono fatti con dei puntini, quello è il segno che sono stampati come una stampante che quindi fra voi e quell'azienda c'è un computer perché la gente non pensava proprio che nel mondo si utilizzarono i computer in quegli anni è cominciato effettivamente a venire fuori qualche cosa qualche cosa che all'inizio era pochissimo ma che è stato evidente subito ai più curiosi, ai più reattivi che era una cosa di una potenza incredibile, considerate che a quell'epoca un computer per una media azienda si andava a spendere una cifra tipo 30 milioni se si pagava poco ma con 30 milioni all'epoca si comprava una Ferrari e questo sistema aveva una memoria di massa di 5 megabyte, non mi sono sbagliato, 5 megabyte, cioè 5 milioni di caratteri, non 5 giga o 5 tera da quel momento si è visto che con pochi soldi, mica tanto pochi, un milione e mezzo, due milioni quando con un milione e mezzo o due milioni ci si comprava qualche cosa, anche un'automobile quasi si poteva avere dentro casa qualcosa che ci si sognava, rapidamente si è passati ad avere dentro casa più di quello che c'era all'anagrafe poco tempo prima e questo naturalmente è passato attraverso una presa di coscienza, di informazione, di conoscenza da parte della gente e il fenomeno è diventato un fenomeno di elite a un fenomeno di massa tirandosi dietro tutti i problemi dei fenomeni di massa innanzitutto quello che la tecnologia lascia un po' il posto alla convenienza per cui il grande avanzamento tecnologico che c'è stato nei primissimi tempi si è un po' affermato quando, ma devo dire per fortuna, è arrivata la standardizzazione prima compravi un computer, io sono stato per questo di un episodio avevo realizzato un programma con un computer per portarlo a una determinata mostra la notte prima l'ho dovuto riscrivere completamente ma copiandolo con la tastiera tutto quanto perché con quel computer non funzionava per farlo con un altro oggi questo problema non c'è perché da una macchina all'altra si passa tranquillamente lo diamo per scontato, non era scontato assolutamente per niente naturalmente questo comporta cosa? Comporta che le macchine sono sempre meno diverse e quindi che la ricerca viene fatta in settori diversi, cioè laterali periferiche, aggiunte varie, possibilità varie senza voler stare a dilungarmi troppo ho avuto peraltro un istituto privilegiato perché avendo fondato una rivista che si è occupata di queste cose l'ho un po' visti passare tutti quello che voglio dire è che come diciamo morale mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato un po' più di equilibrio un po' meno velocità, un po' più di capacità di possibilità di metabolizzare le nuove informazioni in modo da avere una situazione un po' più consolidata meno aleatoria di quella che c'è adesso meno volte la parola forse sarà capitato a tutti il computer che oggi non funziona oggi non vede la stampante, affermazione priva di significato e tra l'altro antropologicamente inaccettabile in qualunque altro discorso la lavatrice funziona sempre, il campanello di casa suona sempre il rubinetto si apre sempre eccetera il computer forse non funziona va bene riprova fra un po' e quello va bene questo purtroppo non lo... ormai dobbiamo metterci una pietra sopra c'è chi dice dipende da che sistema operativo usi le varie righe di legione ci sono ma il problema è comunque sostanziale abbiamo accettato in favore delle grandissime possibilità di avere un'incertezza superiore a quella che avremmo avuto se ci fossimo accontentati di qualcosa in meno comunque sia chiaro abbiamo assolutamente guadagnato rispetto a prima perché comunque lo dicevo 40 anni fa il computer è una leva per il cervello e quindi da quando l'uomo ha inventato la ruota o il fuoco o la vite o qualunque cosa ha cercato di fare cose per faticare di meno a fare ciò che doveva fare con il computer ha dato una leva non alle mani, ai piedi ma al cervello che è ovviamente l'organo più importante del corpo quindi è uno strumento lo strumento numero uno dell'evoluzione del sapere umano e quindi dobbiamo essere contenti di questa possibilità che abbiamo credo comunque che sia nostra responsabilità anche non perdere il contenuto culturale, concettuale che c'era una volta in questo mondo adesso i bambini nascono e hanno un telefonino si dice che alcuni facciano una fatica a girare le pagine dei libri perché sono abitati a girare con il dito lo schermo del telefono io non so fino a che punto sia vero sia un'esagerazione eccetera fatto sta che comunque qualcosa di vero in questo cielo la cosiddetta generazione digitale esiste è sicuramente un vantaggio però come a scuola ci fanno studiare il latino, il greco la storia evitiamo di prendere un telefono premere un pulsante e fare una foto che viene benissimo perché i telefoni oggi sono potentissimi nel fare le foto e non sappiamo perché altrimenti non sapremo più evolverci se non sappiamo perché grazie grazie grazie